Lick, ben ritrovati i miei cari vintori del Lugiona Barcaccio, siamo all'appuntamento Bettefante, un appuntamento che ci sono dei miei cari vintoni che mi stanno andando a richiedere da giorni, da giorni, ed eccoci qua finalmente. Cosa facciamo qua? Ormai rubrica che è settimanale, quindi ogni settimana, ogni weekend io darò i pronostici per quanto riguardano due campionati, la Serie A e la Premier League, dove modestamente qualcosina ne mastico e quindi vi do i miei pronostici, appunto le mie sensazioni riguardo alle 10 partite di Serie A, alle 10 partite di Premier League, su che cosa giocarvi, ok? Di rimbalzo ovviamente riuscirete, i miei fantacalcisti anche voi, a trarre delle inferenze quindi su quali giocatori sarà meglio appunto buttarsi sia per ottica modificatori difesa, quando dirò ad esempio under significano partite da meno di 3 gol, quindi sappiate che lì dovete andare a tingere difensori, portieri, quando dico over, tutti sugli attaccanti, i centrocampisti che fanno gol, i rigoristi, ok? Bene, prima però di iniziare a mi raccomandare, miei cari avventori, fatti subito clicca il tasto iscriviti a questa istituzione dello YouTube calcistico, ok? Condividi con tutti i tuoi amici calciofili che conosci, amanti del fantacalcio, scommettitori incalliti con la sigaretta in bocca e il boccale di barbun whisky a fianco e lascia subito un mi piaccino ai video delusione a barcaccio, il mi piaccino per sostenere gratuitamente il canale. Prima di iniziare a dare le nuove appunto sensazioni su questa nuova terza giornata che si sta per andare a verificare terza almeno per quanto riguarda la serie A va bene, voglio farvi vedere quello che ho combinato la scorsa volta, quindi farò apparire qua le appunto puntate che avevo detto nella scorsa puntata e come vedete ho azzeccato sei risultati su dieci per la serie A e ne ho azzeccati nove su dieci nella Premier League, quindi ho fatto quasi l'unplay, va bene, quindi e per dare dei numeri, per far vedere quanto è attendibile il cui presente sommo nonché erudito, vi faccio anche vedere la percentuale perché è anche giusto tenere, rendi contato tutte le scommesse comunque che vi suggerisco, eccola qua, nella prima giornata che ho scommesso, che ho dato le mie indicazioni della serie A ne ho indovinati 8 su 10, nella seconda 6 su 10, in Premier League nella prima giornata che ho fatto ne ho indovinati 6 su 10, alla seconda 9 su 10, in serie A per il momento ho un 70% di risultati indovinati, nella Premier League addirittura un 75% e nel totale ne ho indovinati per una percentuale del 72,5%, quindi avete anche i numeri e questo è indicazione, se volete che il cui presente sia attendibile o meno, adesso sta a voi decidere e andiamo a vedere le nuove indicazioni per questa giornata, ovviamente qualora i numeri si dovessero in futuro abbassare riguardo le percentuali, me ne guarderò bene, ok, da rendicontarvi su questo, no scherzo, lo farò anche qualora dovesse essere un 30%, dovete essere informati, allora, viva l'informazione e non la disinformazione, e a me sei concesso, grazie, iniziamo dalla serie A, allora andiamo così, subito, però devo prendere le partite di questa volta perché se prendo quelle della volta scorsa faccio un problema, dove sono quelle nuove? Dove sono avvocato? Ho perso le partite, come facciamo senza le partite? Dobbiamo andarle a ripescare? Eccole qua, ripescate, allora, serie A, Empoli-Venezia, io Empoli-Venezia è una partita abbastanza tostarella, però io dico 1, dico Empoli-Venezia 1, mi butto, mi voglio rovinare, Napoli-Juventus-Under sotto i tre gol, una partita difficile da pronosticare, potrebbe succedere di tutto, a dire il vero, dire Under è un grosso rischio, però bisogna rischiare, Under, Atalanta-Fiorentina, over, cioè sopra i due gol e mezzo, Sampdoria-Inter, mi giocherei il gol, tutte e due le squadre andranno a segno, Cagliari-Genova, rischio, qui dico X, poi Spezia-Udinese, dico gol, tutte e due le squadre andranno a segno, Torino-Sampdoria, dico clamorosamente, che poi clamorosamente non è, no, mi voglio giocare la doppia, concedetemi una doppia, che è l'unica che metto, 1x, ok, 1x, Milan-Lazio, over, ci saranno più di due gol, Roma-Sassuolo, io mi giocherei il gol, tutte e due le squadre andranno a segno, e Bologna-Verona, mi giocherei il gol, tutte e due le squadre andranno a segno. Quindi queste, adesso le ricapitolo qua, le vedrete, le indicazioni per questa giornata per quanto riguarda la Serie A, e ora vi do quelle per la Premier League. Allora, Crystal Palace-Tottenham, mi giocherei un Under, Arsenal-Norwich, mi giocherei il gol, tutte e due le squadre andranno a segno. Brentford-Brighton, mi giocherei un X, quindi qua rischio. O per chi vuole rischiare di meno, potrei consigliare un Under, ma io dico, e ai fini della statistica, terrò fede all'X, quindi pareggio. Ripeto, Brentford-Brighton, mi giocherei l'X. Leicester-Manchester City, questo è difficile, ma dico over, quindi più di due gol. Manchester United-Newcastle, con il ritorno di Cristiano Ronaldo, secondo me non ci saranno dubbi, vince il Manchester United scolpito sulla pietra, 1. Southampton-West Ham United. Dico over, più di due gol in questa partita. Watford, Wolverhampton, mi giocherei un Under, ci saranno meno di tre gol in questo match. Poi c'è Chelsea-Aston Villa. Questa sembrerebbe banale, non vorrei che poi alla fine nascondesse una sorpresa di giornata. Però, però, dico uno, non ce la faccio, uno. Anche se la Ston Villa è una squadra che può sorprendere, quindi, però dico uno. Sappiate però che ho un tarlo nella testa, ma dico uno. Leeds-Liverpool, anche questo è abbastanza difficile a dire il vero, non vorrei che qua ci sia la sorpresa di giornata, devo essere onesto. Non vorrei che qua ci sia la sorpresa di giornata. Io dico, per stare sul sicuro, giocatevi... giocatevi il gol, il gol. Giocatevi il gol, tutte e due le squadre andranno a segno. Everton-Barley, che è l'ultima partita di giornata. Penso tra l'altro si giocherà lunedì, se non erro. Everton-Barley, io qui mi gioco l'unica doppia che ho fatto e che è 1x in Everton-Barley. Quindi questi, i miei suggerimenti per quanto riguarda la Premier League, ve li faccio rivedere qua, velocemente, così che possiate prendere nota, insieme a quelli di prima della Serie A. Vi è concesso anche fare un mischiore di quello che secondo voi reputate essere meglio tra le due puntate di Premier e Serie A. Potete scegliere voi magari 5 di Serie A, 5 di Premier League, che più vi fanno stare sul sicuro, e comporre voi la vostra scheda, non so, da 10 partite, dove ci mettete massimo 2€, che è quello che io consiglio di giocare, perché comunque, ovviamente, prendere 10 partite non è facile, non è facile, e quindi bisogna sempre giocare con moderazione, ed è quello che suggerisco io. Non esagerate, miei cari avventori, perché qui primariamente si sta giocando. Poi, veloci consigli per il fantacalcio, ok? Che ci rimane un minutino da dare a dedicare a colori fantallenatori, tornando qua solo sulla Serie A. Magari può essere una buona giornata per Mancuso, per Mancuso dell'Empoli, dove magari chissà potrà segnare anche una bella doppia. Poi, Atalanta-Fiorentina, mancherà praticamente tutto l'attacco dell'Atalanta, Blaovic è schierabilissimo, perché secondo me uno lo può mettere. Nell'Atalanta potrebbe essere mattatore dell'incontro Malinowski, ad esempio, che mi sembra di aver capito, posso giocare anche in una nuovissima posizione d'attaccante. In Sampdoria, Inter, occhio ai laterali dell'Inter, che chiunque giocherà, Di Marco, oppure Perisic, oppure Darmian, potrebbero essere validi e buoni, appunto, per essere inseriti. Nel Cagliari, io consiglio sempre Joao Pedro, quando è in casa, soprattutto con le squadre di media, bassa classifica. Nell'Udinese consiglio, e questo è più un consiglio a largo raggio, occhio a Beto, Betuncal dell'Udinese, che potrebbe essere una nuova e futura buona scommessa e tenetelo d'occhio. Torino, Sampdoria, Belotti potrebbe fare gol in questa giornata. Nella Roma ci saranno parecchi cambiamenti, mi pare di aver capito, però Abram è sicuramente qualcosa di molto ghiotto, molto ghiotto. E in Bologna-Verona, occhio, occhio all'Arnautovic e chissà che Musabarro non possa vivere una di quelle giornate dove possa mettere dentro la doppia, sempre che giochi. Bene, miei cari avventori, queste le indicazioni a questo giro. Amrachmand, attivate il campionaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui allo giorno del calcio di un nuovo video. E noi ci sentiamo alle prossime. Chiacca da barra!